Questa è anche l'occasione per dire che le possibilità di far avvicinare i giovani alle famiglie, i giovani alla fede, ce ne sono. Noi siamo andati a Sordevolo, ancora una volta il nostro grazie per tutto lo sforzo produttivo che è stato fatto questa mattina e per la generosa accoglienza. Ma attenzione, ci sono anche tante occasioni. Permetteteci di darvi una indicazione, soprattutto se siete nelle Marche, in provincia di Macerata, ad Urbisaglia. Perché? Perché domani c'è un'altra possibilità di incontro proprio in famiglia, tra giovani e famiglie. Vedete adesso in questo momento la locandina, il tuo nome è scritto nel cielo, è un festival e altro non è proprio che un mezzo di incontro, un incontro con la parola di Dio, un incontro con Gesù, anche attraverso l'adorazione eucaristica. Perché don Gaetano, e qua ho bisogno veramente di te, l'adorazione eucaristica è che noi siamo abituati a essere qualcosa dell'anima, un incontro intimo, un incontro che si fa nel silenzio, un silenzio però che sa parlare, un incontro denso di parole, in un certo senso che arrivano dritto al cuore. Sì, per spiegare questo possiamo ricordare quell'episodio notissimo della vita del santo curato d'Ars e di San Giovanni Maria Vianney, che racconta che c'era un povero contadino della sua parrocchia, che passava ore e ore davanti al santissimo sacramento, il santo curato d'Ars chiese, ma tu cosa fai, tu cosa dici? E lui rispose semplicemente, io guardo lui e lui guarda me. E questo l'ha ripreso anche il Papa Francesco.